Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi risolviamo questo esercizio che si aggancia alla spiegazione di due giorni fa sulla teoria di come calcolare la sezione di un conduttore in base alla caduta di tensione e ad altre specifiche. Ieri ho fatto un esempio su una linea monofase, vediamo adesso come si applica su una linea trifase. Cambia molto poco, nel senso che cambia solo il coefficiente A, ma comunque vediamola assieme. Allora, qua abbiamo sempre la formula ricavata, che vi invito a rivedere il video da cosa è stata ricavata, quindi dall'unione della formula del classico calcolo della caduta di tensione, inserendo queste due espressioni, quindi della resistenza di linea e della riattanza di linea, andando ad estrapolare la sezione, la S, si ottiene questa formula. Qui abbiamo la corrente di impiego, l'angolo di sfasamento del carico, ovviamente, la lunghezza del cavo, l'alimentazione e la caduta di tensione ammissibile. Vediamo tra un attimo insieme come risolvere anche questo esercizio. Ok, come prima cosa andiamo sempre ovviamente a quantificare la caduta di tensione in termini di volt e non solo di percentuale, quindi andremo a fare 400 per 0,015 che è appunto pari all'1,5%, quindi andremo a fare 400 per 0 e mi viene esattamente 6 volte. A questo punto vado a considerare la mia formula della sezione e vado a sostituire i miei valori, quindi avrò, abbiamo detto, il parametro A è 2 quando siamo nella monofase, radice di 3 quando siamo nella trifase, quindi in questo caso abbiamo un radice di 3. K è un coefficiente che dipende dall'effetto pellicolare, dall'accordatura che vale sempre, non 10, ma 1,08, per la Fizeta che è la resistenza specifica alla massima temperatura del cavo PVC che è 70 gradi, quindi si prende la resistività del rame e la si porta in relazione alla temperatura più alta, quindi si modifica un po' da 16,4 mi diventa 21,3 per 10 alla meno 3, poi il coseno, quindi il fattore di potenza del carico, quindi abbiamo in qua un cos di 30 gradi e la corrente di impiego che è 48 A. al denominatore la caduta di tensione espressa in volt, poi abbiamo sempre radice di 3 per L che è 50, perché sopra 50 non c'è, perché me lo sono dimenticato, adesso ce l'aggiungo, allora, dice di 3, x abbiamo detto quando non c'è data è 0,15 per 10 alla meno 3, poi sen, allora, qua per sen 30, per 48, allora, aspettate che ricontrollo, quindi questo, questo, si, manca la L, 21,3, qua, mettiamo qui, quindi 50 per, e sotto, allora, la caduta di tensione A L X seno 48, ok, andiamo a fare il calcolo, quindi, allora, vediamo cosa ci viene al numeratore e al denominatore, ok, questi due, qua mi viene 82,8 diviso 5,69, 69 viene 14,55 mm quadrati, e quindi andrò a scegliere una sezione di 16, scelgo sezione standard più grande che è 16 mm quadrati, ok, questo ha, diciamo, lo svolgimento, quindi vedete che tra monofase e trifase, cambia molto poco, cambia il nostro coefficiente A, e per il resto, è molto semplice andare a ricavare la sezione, e poi confrontarla con i valori standard, bene, spero che questo esercizio vi possa essere d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti, e ci vediamo domani per un altro video, � grazie a tutti,